Oristano è di nuovo in testa alla classifica delle province più sicure d'Italia, lo attesta la consueta indagine del quotidiano economico, il Sole 24 Ore, che da anni fotografa la situazione dell'ordine pubblico nelle 106 province italiane. La fotografia dei crimini commessi in Italia è frutto dell'elaborazione dei dati forniti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dall'Istat. Se Oristano, 106esima, si conferma la provincia più sicura d'Italia con 2.582 denunce, Milano e ancora quella dove nel 2020 si è registrato il maggior numero di denunce, 159.613. Seguono Bologna, Rimini, Prato e Firenze. Oristano invece precede Pordenone, Benevento, Treviso e Cuneo, Cagliari è 81esima, Sassari 50esima e Nuoro 48esima. A livello nazionale lo studio riferisce di oltre 800 reati informatici al giorno nei primi sei mesi di quest'anno. La crescita degli illeciti online emerge con forza e non si tratta solo di un incremento rispetto al pre-covid, quando ancora smart working e didattica a distanza erano una realtà per pochi. Il trend si conferma nei primi mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Oristano è la provincia dove si registrano meno furti con strappo e tra quelle che fanno registrare meno danneggiamenti, truffe e frudi informatiche, sfruttamento della prostituzione, pornografia minorile, lesioni dolose, omicidi volontari e furti. Decisamente meno confortanti i dati relativi alle denunce per percosse, 49 e il settimo posto, tentati omicidi, 4 al sedicesimo posto e omicidi colposi, 7 al decimo posto. Ancora una volta una fonte autorevole certifica un'eccellenza della nostra città e della provincia, osserva il sindaco Andrea Luzzo. Da tanti anni Oristano è in vetta a questa speciale classifica elaborata dal Sole 24 ore sui dati del Ministero dell'Interno e dell'Istat. Nel 2019 a Milano, nella sede del 24 ore, Oristano guadagnò il premio per la provincia e la città che negli ultimi 30 anni è stata simbolo di sicurezza e giustizia. Sono dati che inorgogliscono e ci spingono a fare sempre meglio. Per difendere il nostro titolo di città tranquilla non è un caso se un assessorio ha affidato la delega alla sicurezza, che per noi è un valore primario, conclude il primo cittadino.